Dalla regione Abruzzo sulla sanità solo buoni propositi. Il commento del segretario della UIL Abruzzo Lombardo a margine del tavolo chiesto dai sindacati. Tra le questioni rimaste risolte la stabilizzazione del personale sanitario precario. Medici e infermieri sono pochi estremati. Lo avevano gridato anche gli operatori scesi in piazza ieri col nursing. E questo è il tallone d'Achille del sistema ospedaliero abruzzese anche nella lotta contro il covid. Noi avevamo posto una serie di problematiche che ci sono secondo noi rispetto alla sanità pubblica regionale. In primis la stabilizzazione dei precari che è uno dei temi centrali. Uomini e donne che hanno dato un contributo notevole durante il periodo di questa pandemia e che ancora oggi non vedono riconosciuto questo sforzo enorme che hanno portato il loro contributo straordinario nei nostri nosocomi regionali, nella nostra attività sanitaria di prevenzione di questa maledetta pandemia. Noi crediamo che sia arrivato il momento che il riconoscimento di una stabilizzazione dei precari nelle ASL, nelle quattro ASL della nostra regione diventi prioritario. Purtroppo nell'incontro al di là dei buoni propositi non siamo andati. Insoddisfatti della riorganizzazione della rete ospedaliera i sindacati chiedono di potenziare la medicina territoriale tenendo conto delle esigenze delle diverse aree d'Abruzzo. Noi continuiamo a sostenere che una riorganizzazione del nostro sistema sanitario regionale diventa fondamentale per consentire di dare una sanità territoriale in grado di rispondere innanzitutto alle esigenze della cittadinanza e della popolazione abruzzese in una regione orograficamente particolare che deve essere tenuta presente perché è fondamentale per poter dare quelle risposte soprattutto a quella popolazione che vive in condizioni geografiche particolari, penso a tutto l'Abruzzo interno e che deve avere parimenti agli altri abruzzesi una sanità degna di questo nome. I sindacati poi hanno chiesto un tavolo anche a proposito dell'automotive che si è svolto con l'assessore regionale allo sviluppo economico da Mario. Bisogna sedersi a discutere anche di infrastrutture e mercato del lavoro, tuonano le organizzazioni dei rappresentanti dei lavoratori.